amici di youtube ben trovati da marco liguori torna in ospedale il noto personaggio media se te prima di saperne di più prima di scoprire cosa è successo a chi vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video in questo video vi aggiornerò sulle condizioni di salute dell'amatissimo personaggio un personaggio molto noto a canale 5 un volto molto familiare della televisione italiana stiamo parlando di costantino vitaliano che dallo scorso inverno sta combattendo contro una malattia rara e di recente costantino ha pubblicato dei post che hanno preoccupato e allarmato la sua vasta schiera di fan in particolare l'ex tronista di uomini e donne ha pubblicato delle foto che lo vedevano alle prese con una particolare operazione si chiama la petti ed è un macchinario che serve a riscontrare l'eventuale attività tumorale costantino ha postato queste foto condividendo con la sua vasta schiera di fan il prima di marco liguori vi terrà aggiornati sulle condizioni di salute di costantino vitaliano con la speranza di fornire a breve buone notizie amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao ciao